Nel palco scintillante del Teatro Ariston, un sorriso struggente, si incarna negli occhi di un uomo che ha vissuto l'inaspettato sgretolarsi del suo sogno. Giovanni Allevi, il cui volto è solcato dalle tracce del tempo trascorso, si presenta al pubblico di Sanremo, con un nuovo incedere, un nuovo spirito. È un momento di rinascita, di rintracciare la propria essenza oltre le sfide fisiche, e le battaglie interiori. Amadeus aveva promesso un'edizione senza monologhi, ma ciò che emerge durante la seconda serata di Sanremo va ben oltre. È la narrazione toccante di un uomo che ha lottato contro le avversità, che ha imparato a suonare con l'anima quando il corpo non poteva più rispondere. Il pianista, colpito dal mieloma, si esibisce con tumoro, trasmettendo non solo le note della sua musica, ma anche il coraggio e la resilienza che hanno caratterizzato il suo percorso. La sua performance non è solo un momento di pura luce nel buio, ma anche un abbraccio empatico a coloro che si trovano a fronteggiare le stesse sfide. La serata, permeata di emozioni forti, si distingue per questo momento di autentica umanità, superando di gran lunga le esibizioni dei cantanti in gara e gli ospiti di spicco come John Travolta. Giovanni Allevi, accettando il tributo che il palco di Sanremo gli rende, offre al pubblico un'esibizione che va oltre la musica, diventando un simbolo di speranza e di resilienza per chiunque si trovi ad affrontare le proprie battaglie personali.